benvenuti nel primo spazio informativo di oggi oggi appunto l'audizione per città della cultura 2022 l'editoriale del presidente di telesud massimo marino abbiamo già vinto ha dichiato l'assessora rosalia dalì nel corso del webinar di sottoscrizione per il patto per la cultura trapanese che ha sostenuto la candidatura del capoluogo oggi nell'audizione che si è tenuta in videoconferenza fra trapani la capitale al collegio romano verso mezzogiorno la città farcata dovrà vedersela con altre nove colleghe per il titolo che sarà assegnato fra qualche giorno dal consiglio dei ministri condivido in pieno in tempi di iper globalizzazione pensare ed amministrare o ancor più dare seguito a stedili campanilismi della pancia di alcune sacche di popolazione fortunatamente sempre più esigue e oggettivamente anacronistico e soprattutto fuori da ogni logica di sistema per l'offerta culturale produttiva e di raccolta di finanziamenti europei altro aspetto sottolineato dall'assessore dalì in qualsiasi territorio ciò a maggior ragione se a vocazione turistica come il nostro il primo cittadino da parte sua invece dopo l'intuizione iniziale della candidatura nonostante le non poche battutine sul tema che i social gli hanno riversato in questi mesi ne ha avute altre due degne del fiuto politico che in tanti gli riconoscono avversari compresi questo al netto di pregi e difetti di ognuno legittimamente e fisiologicamente come logico che sia può pensare della persona e della sua attività amministrativa una appunto è stata mettere a sistema come autentica prospettiva a prescindere dalla candidatura tutti i 24 comuni della provincia nel progetto un passo da gigante visto che l'individualismo è stato spesso il leitmotiv che ha contraddistinto le realtà siciliane negli ultimi decenni a differenza di quelle del nord assai più scaltra a fare rete un modello da cui non si può e non si deve tornare indietro come un po tutti i sindaci hanno sottolineato nei loro interventi lunedì scorso va da sé che questo modello deve essere vicendevole quando le altre amministrazioni attiveranno iniziative del genere o comunque quando ci sarà esigenza di fare squadra l'altra invece è stata quella di condividere il titolo in ex equo con o senza premi economici che consiste in un milione di euro ed alcuni sgravi sul patto di stabilità in prospettiva di rinascita post covid i competitor sono tanti e agguerriti e seppure il nostro territorio non ha nulla da invidare agli altri no vendizia questi non sono gli ultimi arrivati culturalmente e soprattutto politicamente visto che fra le altre in candidatura ci sono ben tre capoluoghi di regione se la proposta passasse al ministero dei beni culturali che dovrà valutare le indicazioni della commissione giudicante dopo l'edizione delle dieci finaliste fra ieri e oggi sarebbe senza dubbio un colpaccio e nell'ottica di fare squadra per quel poco che può valere e se i protagonisti lo ritarranno opportuno il nostro gruppo territoriale ci sarà telesud crede convintamente nel rispetto dei ruoli che fare rete sul territorio sia la via maestra per la sua crescita dunque forza trapani ma anche forza marsala e forze gli altri 22 comuni della provincia e incrociamo le dita e adesso facciamo una pausa tra poco contagi ancora in crescita stabilmente sopra quota 2000 i positivi al virus sars cov2 domani e domenica screening per studenti delle elementari e delle medie per docenti e personale scolastico vaccini la percezione secondo demopolis la maggioranza degli italiani favorevole minoritaria la quota di chi non lo vorrà fare consistente invece quella degli attendisti del vediamo che succede l'analisi secondo l'istituto di statistica diretto da pietro vento completata la giunta ericina la sindaca toscano ha nominato carmela da idone del pd belice celerentola dei finanziamenti un luogo comune politico vuole che dopo il terremoto nel belice siano arrivate vagonate di soldi ma i dati ufficiali raccontano altro cambia l'accusa da parte del pm per gli ex dirigenti del trapani calcio maurizio de simone e rino caruso intanto ettore minore si fa avanti ma dagli annunci attualmente non seguono conferme nell'approfondimento di oggi chimico statistico rino candia esamina l'andamento della pandemia in provincia di trapani ben ritrovati in apertura facciamo il punto sull'andamento dei contagi da covid 19 in provincia di trapani sono 2357 casi accertati e 22 le persone guarite nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 112 e c'è stato anche un decesso il servizio il dato complessivo degli accertati positivi è di 2357 un altro decesso porta il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 150 persone sono 16 come ieri i ricoverati in terapia intensiva 150 tre in meno i pazienti nei reparti covid di marsala mazzara del vallo e partenico la città con più positivi e ancora marsala con 595 che però non registra alcun aumento seguono trapani con 489 mazzara del vallo 311 al camo 176 erice 186 valderice 105 sono 22 le persone che in provincia di trapani hanno potuto lasciare l'isolamento obbligatorio dopo essere risultate negative al tampone molecolare di controllo il numero dei guariti totali sale a 5.384 ci sono però anche 112 nuovi positivi in più rispetto a ieri ad oggi dall'inizio della pandemia il 21 febbraio scorso nella provincia di trapani 7.891 persone sono state infettate dal virus SARS-CoV-2 con un indice di prevalenza dell'infezione di 1,81 della popolazione complessiva con 150 decessi complessivi l'indice di letalità rispetto ai contagiati è dell'1,90 per cento domani sabato 16 dopo domani domenica 17 verranno sottoposti a tampone rapido antigenico gli alunni delle scuole elementari e medie della provincia il personale docente e non l'attività di screening che è svolta dalle squadre aziendali di medici usca è in modalità drive in dalle 9 alle 18 nei checkpoint dei 5 distretti sanitari della provincia nel distretto sanitario di trapani i checkpoint sono stati individuati a trapani autoparco comunale via libica erice piazza pertini valderice via seggio 64 sede della protezione civile ma solo domenica 17 gennaio paceco via senatore grammatico ma solo sabato 16 gennaio custonaci parco cerriolo solo domenica 17 gennaio e per i comuni di custonaci san vitolo capo e bussetto palizzolo l'elenco completo relativo anche agli altri distretti lo troverete sul nostro sito web gli italiani e le vaccinazioni contro il coronavirus indagine dell'istituto demopolis vediamo per tre italiani su quattro l'avvio delle vaccinazioni contro il covid 19 rappresenta una serie opportunità per provare a uscire dalla pandemia nel 2021 più scettico in merito si dichiara il 18 per cento il dato emerge dall'indagine condotta dall'istituto demopolis diretto da pierrovento che ha analizzato la propensione personale dei cittadini a sottoporsi alla somministrazione delle dosi la maggioranza dei cittadini il 54 per cento vorrebbe vaccinarsi al più presto ha spiegato il direttore di demopolis pierrovento non appena sarà possibile la loro preoccupazione più diffusa sembra essere l'attuale scarsa disponibilità delle dosi molto significativo è il segmento degli attendisti il 30 per cento circa 15 milioni italiani immaginano di vaccinarsi ma non subito vogliono capire prima come va e invece del 16 per quota di quanti non intendono sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus nel nostro paese anche le convinzioni in tema di prevenzione dal covid mutano in base alla collocazione politica degli intervistati l'istituto demopolis registra una propensione al vaccino più alta tra chi vota i partiti di maggioranza una più forte diffidenza tra gli elettori dell'opposizione si vaccinerebbero prima possibile oltre i tre quarti di quanti votano il pd e il 60 per cento dei cinque stelle la propensione si riduce significativamente al 38 per cento tra i simpatizzanti di fratelli d'italia e al 35 per cento tra gli elettori della lega nell'indagine demopolis per il programma otto e mezzo l'opinione pubblica si spacca sull'eventuale obbligatorietà della campagna vaccinale per la quale propenderebbe il 45 per cento degli intervistati per poco più di un cittadino su due dovrebbe invece restare facoltativa ampiamente maggioritaria aggiunge pirrovento e invece la convinzione sulla necessità di prevedere un obbligo prudenziale di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori a partire dal settore sanitario gli studenti con disabilità che frequentano gli istituti superiori devono ancora attendere prima che venga ristabilito il servizio di assistenza alla comunicazione oggi riunione interlocutoria in prefettura cooperativa azione sociale ha preso l'impegno di tornare a erogare il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione entro otto giorni per il momento il servizio rimane sospeso con disappunto dei genitori degli alunni disabili la questione ha due punti di criticità il primo relativo alla mancata erogazione degli stipendi ai 215 assistenti alle dipendenze della cooperativa dal maggio scorso il secondo relativo al mancato servizio nei confronti di 274 alunni disabili in entrambi i casi sono emerse gravi responsabilità della cooperativa azione sociale di Caccamo che si è giudicata il servizio con il libero consorzio dei comuni in entrambi i casi ci sono delle persone che ne ricevono un danno i lavoratori senza stipendio i ragazzi senza assistenza la cooperativa imputa al libero consorzio ritardi nell'erogazione delle somme dovute a sua volta il libero consorzio contesta gravi lacune di rendicontazione questo in sintesi rimane forte la preoccupazione dei genitori dei ragazzi alcuni dei quali potrebbero decidere di promuovere azioni legali nei confronti della cooperativa il commento dell'avvocato Tiziana Barone garante del disabile del comune di Trapani i parti deboli sono sia i lavoratori che non vengono retribuiti da oltre 8 mesi la questione ha una rilevanza anche per gli alunni disabili per gli allievi delle scuole superiori che si trovano senza assistenza alla comunicazione e questo dall'8 gennaio sembra in ultima analisi che il legale rappresentante che ha partecipato all'incontro ha comunicato che il problema sia legato al fatto che in data 7 gennaio quindi il giorno prima dell'inizio delle scuole non sapeva a chi erogare questo servizio o meglio le modalità di erogazione del servizio in considerazione della pandemia sembra ancora che le scuole ci tengo a precisarlo del legale rappresentante della società cooperativa che i dirigenti scolastici non abbiano risposto di conseguenza hanno pensato che non ci fosse un servizio da erogare ed ecco perché i ragazzi sono rimasti senza assistenza alla fine dell'incontro che è durato parecchio la cooperativa ha preso l'impegno che entro una settimana comunicherà a tutte le parti presenti a quest'incontro quindi al prefetto in prima battuta ovviamente ai sindacati e anche al garante della persona disabile quali saranno le loro determinazioni e quando riprenderanno il servizio che a tutt'oggi è interrotto A tra poco con le altre notizie Completata la giunta ericina la sindaca toscano ha nominato Carmela Daidone del PD Belice, cenerentola dei finanziamenti un luogo comune vuole che dopo il terremoto nel Belice siano arrivate vagonate di soldi ma i dati ufficiali raccontano altro Banca rotta fraudolenta cambia l'accusa da parte del PM per gli ex dirigenti del Trapani Maurizio De Simone e Rino Caruso intanto Ettore Minore si fa avanti ma dagli annunci attualmente non seguono conferme Ben ritrovati con la nomina di Carmela Daidone la sindaca di Erice e Daniela Toscano completa l'esecutivo e ricompatta maggioranza EPD Sindaca Toscano con la nomina di Carmela Daidone si chiude la vicenda della giunta si ricompatta possiamo dire maggioranza EPD e si aggiunge una quota femminile nell'esecutivo questa è una buona osservazione perché finalmente siamo tre e tre era una cosa insomma che mi dava da pensare però finalmente insomma siamo tre donne e tre uomini ciascuno per le proprie competenze e capacità io ringrazio obbligamente la giunta l'assessore vice sindaco Mauro Rossella Cosentino l'assessore Genco e l'assessore Enzo Di Marco per il contributo importante che hanno dato in un momento di particolare difficoltà e in questo momento alle 13 nominerò la Carmela Daidone come assessore al comune di Erice si completa la giunta e continueremo a lavorare e offrire al territorio tutte quelle occasioni e di sviluppo, quelle opportunità che questo territorio merita E anche un'occasione di ricompattamento politico interno al PD? Il PD c'è sempre stato ovviamente diciamo abbiamo avuto dei piccoli dissapori ma c'è sempre stato presente votando tutte le delibere diciamo le cose importanti su cui si è misurato il Consiglio Comunale e naturalmente era questo posto che diciamo spettava il Partito Democratico con la giunta sarà completato e quindi siamo qui compatti e coesi per continuare il nostro lavoro Al via le iniziative per commemorare il 53esimo anniversario del terremoto della Valle del Belice un'occasione anche per discutere della ricostruzione incompiuta e delle promesse mancate Due messe, oggi pomeriggio a Partanna e domani mattina a Sala Paruta il suffragio delle vittime del sisma l'inaugurazione di alcuni murales tra i ruderi del vecchio centro abitato di Montevago ed ancora iniziative via streaming nei vari comuni delle province di Trapani ed Agrigento la Valle del Belice non dimentica e anche quest'anno nel rispetto delle disposizioni anti-Covid ha organizzato manifestazioni per commemorare il 53esimo anniversario del terremoto che nel 1968 sconvolse la Sicilia occidentale fare memoria tenere vivo il ricordo di quel disastro e rendere omaggio alle vittime ma è importante anche tenere viva l'attenzione sulla ricostruzione incompiuta servono soluzioni urgenti non più rinviabili ha ribadito Nicola Catania sindaco di Partanna e coordinatore dei 21 sindaci della Valle dopo l'amarezza per il mancato inserimento di misure a sostegno nella legge di bilancio 2021 come dargli torto? carte alla mano un report dell'ufficio studi della Camera mette nero su bianco l'ammontare degli interventi legislativi con le somme stanziate dallo Stato per i terremoti in Italia dal 1968 al 2012 la Valle del Belice in circa 50 anni ha ricevuto 9 miliardi e 179 milioni di euro la metà delle somme stanziate per il terremoto del Friuli al quale sono andati circa 18 miliardi ed un terzo rispetto all'Irpinia con 52 miliardi il Belice ha ricevuto meno fondi anche rispetto al sisma del 1997 che interessò Marche d'Umbria o quello del 2009 in Abruzzo o ancora quello del 2012 in Emilia per i quali sono stati stanziati circa 13 miliardi ciascuno una ricostruzione lenta a singhiozzo per i territori della Valle dove mancano ancora opere di urbanizzazione primaria e di edilizia privata Catania in una dichiarazione rilasciata all'Agenzia Agi parla di assenza dello Stato e del mancato riconoscimento di rivendicazioni legittime ci appelliamo alle istituzioni nazionali perché ci supportino per chiudere la questione Belice e al Presidente della Regione Nello Musumeci perché ci sostenga aprendo se necessario anche un'avvertenza con lo Stato con l'obiettivo di trovare una definitiva soluzione all'annosa e vergognosa vicenda del completamento sempre promesso e mai mantenuto della ricostruzione La programmazione di questa sera sulla nostra emittente alle 20.30 alle 22 a mezzanotte e 30 un nuovo appuntamento con Sipario tutto quanto fa spettacolo ospite di Nicola Augugliaro il musicista e fisarmonicista Pietro Adragna vediamo una clip della trasmissione A che età hai cominciato tu? Avevo 5 anni e mezzo piccolissimo tant'è che ancora mi ricordo quando mio padre mi chiese ma che strumento ti piacerebbe suonare io indicando con le mani chiedo che fa così quello che fa così perché non sapevo si chiamasse fisarmonica io ero affascinato da questo strumento sin da piccolo perché i miei giravano andavano nelle balere e quindi io vedevo sempre questa fisarmonica questo strumento straordinario che si apriva si chiudeva diversi colori poi già scusami rosso nero bianca dico io voglio quello ho puntato il dito e da lì ma oltre a studiare fisarmonica hai studiato anche pianoforte ho studiato anche pianoforte all'età di 10 anni dopo aver studiato per circa 4 anni fisarmonica sentivo la necessità proprio di studiare altro di avvicinarmi al mondo classico alla musica colta e a Trapani ho intrapeso lo studio del pianoforte classico sempre per i nostri appuntamenti alle 21 e alle 23 andrà in onda una nuova puntata di Res Pubblica Sicilia Chiama Europa ospiti del direttore Nicola Baldarotta il sindaco di Marsala Massimo Grillo e nella seconda parte il presidente del flag trapanese Andreana Patti sul nostro sito telesudweb.it le notizie che abbiamo trasmesso oggi nel telegiornale e poi le notizie che verranno aggiornate adesso il meteo e poi ci rivediamo con lo sport Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo nuvoloso con vento da ovest e mare agitato le temperature saranno comprese fra i 13 e i 14 gradi In serata previsto ancora cielo nuvoloso con piogge consistenti e vento da nord ovest il mare sarà agitato e le temperature rimarranno stabili sui 12 gradi Per domani mattina previsti venti da nord est con mare molto mosso e cielo nuvoloso le temperature saranno comprese fra i 10 e gli 11 gradi Nel pomeriggio di domani il cielo sarà nuvoloso con vento da nord est e mare molto mosso le temperature rimarranno stabili sui 10 gradi Cambia l'accusa da parte del PM per gli ex dirigenti del Trapani Calcio Maurizio De Simone e Rino Caruso accusati di bancarotta fraudolenta intanto Ettore Minore si fa avanti ma dagli annunci attualmente non seguono conferma il servizio di Federico Tarantino bancarotta fraudolenta e questa l'accusa del PM nei confronti di Maurizio De Simone e Rino Caruso rispettivamente ex amministratore delegato e direttore generale del Trapani nel periodo marzo-giugno del 2019 De Simone si trova in carcere dallo scorso 6 agosto perché secondo la ricostruzione degli investigatori avrebbe sottratto circa 200.000 euro al Trapani attraverso un meccanismo di false fatturazioni per servizi mai resi per lo più di natura informatica posti in essere da aziende prive di effettiva sostanza economica facenti capo direttamente o indirettamente a De Simone inoltre tra le altre accuse nei confronti dell'ex patron c'è anche un'evasione di IVA pari ad oltre 9 milioni di euro l'accusa per De Simone Caruso però proprio per il recente fallimento del Trapani Calcio SRL passata da appropriazione in debita a bancarotta fraudolenta intanto il Tribunale di Trapani nell'udienza preliminare ha rinviato a giudizio gli stessi Maurizio De Simone e Rino Caruso a cui va aggiunto anche Pino Pace che nel periodo di presidenza gennaio-giugno 2020 della società Granata avrebbe presentato delle dichiarazioni IVA riferite alla gestione De Simone il processo inizierà nel mese di marzo nel frattempo secondo quanto dichiarato al giornale di Sicilia Ettore Minore avrebbe costituito una nuova società che possa essere tra le concorrenti della ripartenza del calcio a Trapani un nuovo collettivo annunciato che però da una ricerca effettuata attualmente non risulta ancora essere registrato alla Camera di Commercio sviluppi della rinascita del calcio trapanese le cui attese potrebbero richiedere ancora del tempo e che potrebbero vedere anche degli attori non ancora usciti allo scoperto Tutti i sindaci specialmente quelli dei grandi centri abitati sono preoccupati e invocano ufficialmente ormai lo sapete la zona rossa nelle città che amministrano ma com'è che dalle nostre parti siamo arrivati ad essere così preoccupati per l'aumento vertiginoso dei contagi nella nostra provincia specialmente nella città di Trapani e nella città di Marsala abbiamo superato quota 500 per esempio positivi nel solo comune di Trapani ieri sera nel corso della trasmissione De Politicum nella quale abbiamo trattato ancora una volta in maniera approfondita le dinamiche legate a questa situazione pandemica c'era fra gli ospiti il dottore Rino Candia chimico analista statistico che dati alla mano grafici ed analisi scientifiche ci spiega com'è che ci siamo ridotti a dover invocare dalle nostre parti la zona rossa questo è un estratto della trasmissione che potete comunque seguire se volete sulla pagina dedicata alla trasmissione su Facebook De Politicum vi faccio ascoltare che cosa ci ha detto ieri sera e come ci ha spiegato Rino Candia tutti i casi della prima ondata pandemica quindi il lockdown della primavera sono distinguibili in questo scenario in questo grafico che ci sta mostrando il dottore Candia nella parte bassa quindi vicino al zero dove c'è scritto maggio 2020 quasi niente non si vede oggi siamo a gennaio 2021 guardate dove siamo arrivati questi sono i numeri e non sono né supposizioni né fisime che ognuno si alza dalla mattina e si inventa le cose sono numeri che vengono analizzati scientificamente prego questo era per portare lo stesso grafico dell'ultima volta ma si può fare di meglio e ho portato un secondo grafico vai regia eccolo qua questo invece lo stesso grafico gli stessi casi perché quelli sono ne possono cambiare i numeri è riportato in andamento giornaliero cioè quanti casi si registrano ogni giorno sono le barrettine celesti per analogia questo è marzo maggio cioè lo leggete sotto marzo maggio non si vede in scala è appena visibile ok questa è tutta l'estate dopo c'è la linea piatta che è tutta l'estate giù e ne approfitto per dire perché cose strane me ne tocca leggere come tutti ricordo che io sono prestato alla statistica però nel mio mestiere un altro mi occupo di turismo saprò come andate il turismo in Sicilia giugno già si lavorava bene luglio era quasi penione agosto si è lavorato sostanzialmente come l'anno scorso fino al 15-20 quindi eravamo pienissimi di turisti il grafico dice che tutti questi turisti che sono arrivati casi non ne hanno prodotti ed è semplice capirlo a parte ci sono studi che lo dimostrano ma intuitivamente il turista è uno straniero non si abbraccia con nessuno non si bacia con nessuno non ha contatti raccinate con nessuno ha più paura a lui di noi quindi i turisti non hanno portato nessun caso figuriamoci i migranti che erano pure tamponati e messi in isolamento quindi con questo la chiudiamo torniamo ad oggi torniamo ad oggi dall'1 di settembre 1 di settembre io mi ricordo il 2-3 tanto per cambiare ero in trasmissione perché c'era stato il caso di Salerno assolutamente che è stato qui fine agosto il 12 di settembre e mentre ancora si diceva tutto sommato non è successo ragazzi dateglielo un po' di tempo e incomincia questa la curva a salire siamo al 10 di ottobre prima arriviamo qui e poi ci facciamo un mesetto tranquilli riprende a pieno regime la vita scuole comprese tutto ufficio qualunque cosa e siamo decollati fino al 18 di novembre poi stiamo parlando che da una media di forse 20 casi al giorno ce ne siamo andate una media di 150 casi al giorno perché non ho detto cos'è la linea nera è la stessa roba soltanto che se tu metti soltanto le barrette che sarebbero il comunicato dell'ASPA oggi 100 domani 228 domenica 6 non è che non ci sono stati casi tamponi ti perdi un poco la linea nera è una cosa semplicissima la media mobile ha 7 giorni cioè prendi gli ultimi 7 giorni e fai la media scatta l'ottavo giorno cangelli l'ottavo più vecchio hai sempre il posto almeno della media e quindi che cosa ci deve fare capire che al 18 novembre in questa settimana la media era stata di 145 casi al giorno zona arancione paura addio mio che la parte psicologica incide tanto oltre alle misure c'è pure dare il polso alla gente siamo in zona arancione c'è da avere paura e ce ne scendiamo di nuovo fino a 22 dicembre a 40 casi al giorno di media il 22 dicembre quindi quando a fine novembre per farlo capire è meglio voglio sperare è stata istituita la zona arancione per per tutta Italia praticamente vi ricordate io veni in trasmissione ho detto da oggi con la cravatta arancione siamo in zona arancione questa zona arancione evidentemente ci spiega dottore Gandhi ha influito anche psicologicamente non solo come misura di restrizione di contenimento ma psicologicamente perché abbiamo capito che forse era meglio fare i buoni la curva in quel mese è scesa nettamente per poi risalire sotto le feste di Natale il 22 dicembre guardate che succede fino a 14 gennaio farla vedere regia mai eravamo stati così nati mai questo è di ieri fino a ieri stiamo calcolando a 14 a oggi a oggi appunto guardate quanto si è alzata siamo al K2 è lì come vetta praticamente questo è Rino tu dai numeri però adesso facci capire precisamente è chiara l'analisi già l'aveva anticipato il dottore capodanno capodanno Natale festeggiamenti visite di cortesia giocate lo sappiamo tutti ce lo siamo detti tutti chi non so come si faccia a negare una simile evidenza quale altro motivo può essere stato se non questo durante le feste ben ritrovati con la seconda edizione la Sicilia potrebbe diventare zona rossa a causa dell'impennata dei contagi e del tasso di positività le stelle è attesa in queste ore la decisione del ministro della salute Roberto Speranza ieri il presidente della regione Nello Musumeci ha formalmente chiesto al governo nazionale di istituire la zona rossa nella nostra isola dicendosi pronto nel caso in cui la richiesta non dovesse essere accolta procedere con la sua ordinanza applicando le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio come peraltro richiesto da molti sindaci e nel prossimo servizio facciamo proprio il punto sull'andamento dei contagi in provincia di Trapani il dato complessivo degli accertati positivi è di 2.357 un altro decesso porta il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 150 persone sono 16 come ieri i ricoverati in terapia intensiva e 150 3 in meno i pazienti nei reparti covid di Marsala Mazzara del Vallo e Partenico la città con più positivi è ancora Marsala con 595 che però non registra alcun aumento seguono Trapani con 489 Mazzara del Vallo 311 Alcamo 176 Erice 186 Valderice 105 sono 22 le persone che in provincia di Trapani hanno potuto lasciare l'isolamento obbligatorio dopo essere risultate negative al tampone molecolare di controllo il numero dei guariti totali sale a 5.384 ci sono però anche 112 nuovi positivi in più rispetto a ieri ad oggi dall'inizio della pandemia il 21 febbraio scorso nella provincia di Trapani 7.891 persone sono state infettate dal virus SARS-CoV-2 con un indice di prevalenza dell'infezione di 1,81 della popolazione complessiva con 150 decessi complessivi l'indice di letalità rispetto ai contagiati è dell'1,90% domani sabato 16 dopodomani domenica 17 verranno sottoposti a tampone rapido antigenico gli alunni delle scuole elementari e medie della provincia il personale docente e non docente l'attività di screening che è svolta dalle squadre aziendali di Medici Usca è in modalità drive-in dalle 9 alle 18 nei checkpoint dei 5 distretti sanitari della provincia nel distretto sanitario di Trapani i checkpoint sono stati individuati a Trapani autoparco comunale via Libica Erice piazza Pertini Valderice via Seggio 64 sede della protezione civile ma solo domenica 17 gennaio Paceco via senatore grammatico ma solo sabato 16 gennaio Custonaci Parco Cerriolo solo domenica 17 gennaio e per i comuni di Custonaci San Vitolo Capo e Buseto Palizzolo l'elenco completo relativo anche agli altri distretti lo troverete sul nostro sito web Gli studenti con disabilità che frequentano gli istituti superiori della provincia devono ancora attendere prima che venga ristabilito il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione oggi riunione interlocutoria in prefettura Cooperativa Azione Sociale ha preso l'impegno di tornare a erogare il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione entro 8 giorni per il momento il servizio rimane sospeso con disappunto dei genitori e degli alunni disabili la questione ha due punti di criticità il primo relativo alla mancata erogazione degli stipendi ai 215 assistenti alle dipendenze della Cooperativa dal maggio scorso il secondo relativo al mancato servizio nei confronti di 274 alunni disabili in entrambi i casi sono emerse gravi responsabilità della Cooperativa Azione Sociale di Caccamo che si è giudicata il servizio con il Libero Consorzio dei Comuni in entrambi i casi ci sono delle persone che ne ricevono un danno i lavoratori senza stipendio i ragazzi senza assistenza la Cooperativa imputa al Libero Consorzio ritardi nell'erogazione delle somme dovute a sua volta il Libero Consorzio contesta gravi lacune di rendicontazione questo in sintesi rimane forte la preoccupazione dei genitori dei ragazzi alcuni dei quali potrebbero decidere di promuovere azioni legali nei confronti della Cooperativa il commento dell'Avvocato Tiziana Barone garante del disabile del Comune di Trapani i parti deboli sono sia i lavoratori che non vengono retribuiti da oltre otto mesi la questione ha una rilevanza anche per gli alunni disabili per gli allievi delle scuole superiori che si trovano senza assistente alla comunicazione e questo dall'otto gennaio sembra in ultima analisi che il legale rappresentante che ha partecipato all'incontro ha comunicato che il problema sia legato al fatto che in data 7 gennaio quindi il giorno prima dell'inizio delle scuole non sapeva a chi erogare questo servizio o meglio le modalità di erogazione del servizio in considerazione della pandemia sembra ancora che le scuole ci tengo a precisarlo del legale rappresentante della società cooperativa che i dirigenti scolastici non abbiano risposto di conseguenza hanno pensato che non ci fosse un servizio da erogare ed ecco perché i ragazzi sono rimasti senza assistenza alla fine dell'incontro che è durato parecchio la cooperativa ha preso l'impegno che entro una settimana comunicherà a tutte le parti presenti a questo incontro quindi al prefetto in prima battuta ovviamente ai sindacati e anche al garante della persona disabile quali saranno le loro determinazioni e quando riprenderanno il servizio che a tutt'oggi è interrotto oggi l'audizione di Trapani per Città della Cultura 2022 l'editoriale del presidente di Telesud Massimo Marino abbiamo già vinto ha dichiarato l'assessora Rosalia Dalì nel corso del webinar di sottoscrizione per il patto per la cultura trapanese che ha sostenuto la candidatura del capoluogo oggi nell'audizione che si è tenuta in videoconferenza fra Trapani e la capitale al collegio romano verso mezzogiorno la città farcata dovrà vedersela con altre nove colleghe per il titolo che sarà assegnato fra qualche giorno dal Consiglio dei Ministri condivido in pieno in tempi di iperglobalizzazione pensare ed amministrare o ancor più dare seguito a stedili campanilismi della pancia di alcune sacche di popolazione fortunatamente sempre più esigue e oggettivamente anacronistico e soprattutto fuori da ogni logica di sistema per l'offerta culturale produttiva e di raccolta di finanziamenti europei altro aspetto sottolineato dall'assessore Dalì in qualsiasi territorio ciò a maggior ragione se a vocazione turistica come il nostro il primo cittadino da parte sua invece dopo l'intuizione iniziale della candidatura nonostante le non poche battutine sul tema che i sociali gli hanno riversato in questi mesi ne ha avute altre due degne del fiuto politico che in tanti gli riconoscono avversari compresi questo al netto di pregi e difetti di ognuno legittimamente e fisiologicamente come logico che sia può pensare della persona e della sua attività amministrativa una appunto è stata mettere a sistema come autentica prospettiva a prescindere dalla candidatura tutti i 24 comuni della provincia nel progetto un passo da gigante visto che l'individualismo è stato spesso il leitmotiv che ha contraddistinto le realtà siciliane negli ultimi decenni a differenza di quelle del nord assai più scaltre a fare rete un modello da cui non si può e non si deve tornare indietro come un po' tutti i sindaci hanno sottolineato nei loro interventi lunedì scorso va da sé che questo modello deve essere vicendevole quando le altre amministrazioni attiveranno iniziative del genere o comunque quando ci sarà esigenza di fare squadra l'altra invece è stata quella di condividere il titolo in ex equo con o senza premi economici che consiste in un milione di euro ed alcuni sgravi sul patto di stabilità in prospettiva di rinascita post-covid i competitor sono tanti e agguerriti e seppur il nostro territorio non ha nulla da invidiare agli altri in nome in Lizza questi non sono gli ultimi arrivati culturalmente e soprattutto politicamente visto che fra le altre in candidatura ci sono ben tre capoluoghi di regione se la proposta passasse al ministero dei beni culturali che dovrà valutare le indicazioni della commissione giudicante dopo l'edizione delle dieci finaliste fra ieri e oggi sarebbe senza dubbio un colpaccio e nell'ottica di fare squadra per quel poco che può valere e se i protagonisti lo ritarranno opportuno il nostro gruppo editoriale ci sarà Telesud crede convintamente nel rispetto dei ruoli che fare rete sul territorio sia la via maestra per la sua crescita dunque forza Trapani ma anche forza Marsala e forza gli altri 22 comuni della provincia e incrociamo le dita grazie a tutti